Ciao a tutti, oggi prepareremo la confettura di pere. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono pere sbucciata e tagliata a pezzetti, mela sbucciata e tagliata a pezzetti, il succo di limone e lo zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le pere tagliate a pezzetti, la mela tagliata a pezzetti, lo zucchero e il succo di limone. E facciamo cuocere per 40 minuti, 100 gradi, velocità 1, con il cestello al posto del misurino. Adesso proseguiamo la cottura per altri 15 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. A questo punto posizioniamo il misurino e facciamo frullare per 40 secondi a velocità 8. La confettura è pronta, trasferiamola immediatamente in dei vasetti sterilizzati, chiudiamoli con il coperchio e capovolgiamoli per creare il sottovuoto e lasciamoli raffreddare del tutto prima di capovolgerli. Confettura di pere. Si conserva in un luogo fresco e asciutto a riparo dalla luce per diversi mesi. Al momento di servire controllare sempre, prima di aprire il barattolo, che il tappo abbia ancora il sottovuoto, con la parte centrale abbassata. Nel caso contrario, non consumare. Una volta aperto, riporli in frigo e consumare in 15-20 giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!